Chiara Valle, i ringraziamenti del Comitato per le festività pasquali. Al termine di questa settimana santa ci sentiamo in dovere di dire grazie a quanti hanno partecipato e contribuito alla sua realizzazione, in particolare della confrunta. Grazie al Sindaco per le varie autorizzazioni concesse, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, Michela, Caterina e Antonio per il fondamentale supporto fornito in tutti gli eventi esterni, non solo per la confrunta. Ai portatori, a Tele Ionio sempre presente, a tutta quella gente che ha seguito il rito religioso popolare in presenza e da lontano e quindi ai nostri emigrati, studenti, studentesse, assenti fisicamente ma sempre presenti nel pensiero dei loro cari. Alle ragazze e ai ragazzi che vorranno seguirci. Infine grazie a Don Roberto, attuale parroco della nostra città, per il costante confronto e per i suoi preziosi suggerimenti e per i suoi richiami che rappresentano il seme per una nostra crescita costante e duratura. Grazie e a presto!